Grazie 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 Salve Salve Io intanto vi ringrazio Mi sento dentro casa fondamentalmente Sta arrivando anche Milena con i ragazzini Veramente grazie Non mi aspettavo così tanta gente Quindi grazie davvero Fa un po' caldo Quindi speriamo di non soffrire troppo Per noi Ci siamo organizzati con ogni dettaglio Ringrazio ovviamente Peppe Ringrazio Dante Ringrazio l'ospitalità della libreria Che fanno un lavoro incredibile Per il territorio da tanti anni E per la cultura in Italia Riconosciuti a livello nazionale Questo ve lo assicuro Perché i contenzioni Quando abbiamo iniziato a parlare Nel giro delle librerie Le presentazioni Io naturalmente Gli ho detto Io voglio andare assolutamente Alla libreria di Casalotti Ma da Peppe Da Dante Figurati Certo che sì Quindi insomma Lì sapeva che era a Foggia Ieri telefonavo Guarda sono qua Ma anche se fosse stato a Foggia Scusate Grazie Scusate che a Foggia C'ho il conflitto Invece qua no Posso confessare Posso confessare Mi siedo poi mi alzo Perché io non ho mai parlato Adesso sono io che intervento Perché mio figlio Giustamente dice Mio papà ha fatto un libro Ma è che facciamo fare No ma la cosa è bella Mi chiede confessare Sai che proprio Doveva fare Doveva fare Un regalo a lui Doveva fare Un regalo a lui Un regalo a lui Ha sbagliato Ma Mi ha detto Un regalo a lui Un regalo a lui Che l'ha c'è una piacuta Un regalo a lui Scusate Il giorno non è tutto questo Ecco Milena Grazie Stavo dicendo che tu No no Va bene Una presentazione Un po' così Stiamo in casa No è una cosa stranissima Tu andando Puoi mettere In un regalo Cioè Volevo dire questo Che tu Doveva fare il regalo A un Hai fatto Sbagliata Le etichette Me l'hai dato Il mio libro Che hai comprato Qua dentro Il libro Il muragalli Te lo ricordi Che invece Le regalano A lui Le regalano a me Non si è sbagliata L'ha fatta apposta Sono cose che faccio Dante Lo sai Mi conosci ormai Quando sono piccolo Ma queste sono cose che faccio Lei è bravissima Io l'adoro Perché è cresciuta Come Marica Qui Solo che le Mezza No va bene No Aspetta Io me cresco Risco parlare di Milena C'è una zona C'è una zona C'è una zona C'è una zona Ha fatto il giro del mondo Come artista Dal bambino Allora Me l'hanno presentato così E Beppe Cossa Ha scritto Chi sei tu Sei il tuo padre O così Perché me l'avevano letto Ora Fingere che io L'avessi letto Lo scopo Me l'hanno dato No Io ho letto Lo presento io Lo presento io Allora Ancora grazie Mi alzo Perché se no Quelli che in fondo Non mi vedono Allora Questo libro Questo libro inizia 13 anni fa Più o meno Quando stavo traslocando Per venire Ospite A casa della Mancini Dove ancora Mi ospita Durante questo traslogo C'avevo tra le varie cose Questo scatolone Tra i tanti E dentro questo scatolone C'erano dei vecchi Miei diari Insomma Di quando ero Ragazzino E Sistemandoli L'ho riaperti E non direi a mio Da Da vent'anni Vinticinque anni Insomma Dentro questi diari Ho riscoperto Tante cose Che avevo anche Dimenticato E Rileggere Di quel periodo Della morte di mio padre Di questo ragazzetto Di 14 15 16 17 anni Che soffriva In un modo incredibile Che Amava E Soffriva Per l'amore Adolescenziale Fumava Cioè Sigarette ovunque Che racconterinevo Deste sigarette Dal bar Di Borgata Dove sono nato io Insomma Io sono originario Di Fidemi E quando sono arrivato qua Infatti Mi sembrava di stare Dentro casa Perché E' uguale Però Però insomma Rileggevo Di quel ragazzino Rileggevo Di quei dolori Rileggevo Di quegli anni In cui appunto L'adolescenza È una delle età Più brutte del mondo Insomma Perché Non sei né carne Né pesce Se non sei ancora Un uomo Una donna Ma non sei più Ragazzino Che attraversano Delle emozioni Che non sei in grado Di decodificare Perché ancora Non hai Quell'esperienza Del mondo Della vita E quindi Leggevo Di questo ragazzetto Con una grande tenerezza Diciamo Nei suoi confronti E anche con una distanza Degli anni Che me lo faceva vedere Come qualcuno Che non ero più io Cioè Come se stessi leggendo Di qualcun altro Insomma Perché Quei sentimenti Quelle robe Evidentemente Non tutti Non mi appertevano più Ma non tutti Insomma Una grande tenerezza E allora All'epoca Mi chiedessi Beh però Sarebbe bello Riuscire A rimettersi In qualche modo Negli anni Dell'adolescenza Anche un po' Per chiudere dei cerchi Con la morte di mio padre Con delle cose Insomma E quindi Iniziai a scrivere Delle cose In maniera molto ingenua Molto così Mentre La Mancini Puntualmente Ogni anno Mi dicevano Allora Ho scritto Sto libro Ma allora Hai scritto Sto libro Abbiamo fatto Le torne teatrali Ho fatto i film Ho fatto le serie Quindi non ci ho mai Avuto tempo Fondamentalmente Di mettermi Con cognizione di causa Insomma Però questi 13 anni Nel frattempo Mi hanno dato Anche evidentemente Quella giusta distanza Ho trovato Una voce narrante Che prima Non avevo Assolutamente E L'anno scorso Ottobre Finalmente Mi sono preso Il giusto tempo Mi sono chiuso E ho scritto Questa storia Insomma Che ha come spunto Originario Chiaramente La morte di mio padre I luoghi in cui Io sono cresciuto La campagna Dove sono cresciuto Fidene Però non l'ho chiamata Fidene Per esempio L'ho chiamata Montesecco Perché volevo Che questo Non volevo fare Un romanzo Realistico Perché chiaramente Non mi frega niente Di mettere In piazza Le mie cose Insomma E non penso neanche Che siano Interessanti Volevo parlare Del rapporto Padre figlio Questo sì Dopo essere diventato Padre A mia volta E volevo Mettermi proprio In quell'occhio Del ciclone Lì Cioè Nessuno È pronto Anche se uno Ci si prepara Anche se uno C'ha tempo Di rimettersi Però quando succede Poi Penso che nessuno Sia pronto davvero E quindi Mi interessava Provare a mettermi In quelle Tre notti Ecco perché Si chiama così In cui Comunque Si va avanti Lo stesso Perché la vita Continua Il sole Sorge Sempre La mattina E in cui Le persone Vicino a noi Sono fondamentali Magari qualcuno Di voi Anche avrà avuto La tradizione In cui Se moriva qualcuno I vicini di casa I primi parenti Eccetera Ti portano Da mangiare Ti assistono Ti aiutano Ti supportano In qualche modo Il romanzo È ambientato Nel 1991 E mi interessava E chiudo Senza farlo Troppo lungo Perché sennò Per i rosvelo E non dire che Per i rosvelo Leggetevole E mi interessava Trattare L'adolescenza Come dicevo Come qualcosa Che tra Tra l'essere adulti E non essere Più ragazzini E mi interessava Come dire Sviluppare Questo concetto In quella Periferia lì Che La periferia È qualcosa Che sta Tra Perché è Tra la campagna E la grande città E nel 1991 Ho scoperto Approfondendo Un po' Qualcosa Mi la ricordavo Però che è stato Un anno Forse è stato L'ultimo anno Dell'ingenuità Di questo paese Nel senso che Nel 1991 Non c'era internet Per esempio Da nessuna parte C'era stato Il primo collegamento Nel CNR Ma per strada Nelle case Negli uffici Non c'era internet Ancora era una roba Che nessuno di noi Poteva immaginare Dove ci avrebbe portato Poi E da lì in poi Poi nel 1994 C'è stata la prima elezione La grande discesa in campo Di Silvio Berlusconi Insomma La televisione C'erano solo Quei canali lì Non c'era ancora La televisione via cavo Non c'era ancora Le piattaforme Non c'era niente Era un mondo ancora In cui Le nonne Facevano le trittate Le uova Le prendevamo tutti lì E eccetera Eccetera Quindi mi Interessava sviluppare Questo concetto Di essere tra Tra un mondo Che stava esplodendo E le periferie Ancora erano Le vecchie Borgate Divise Da pratoni Infiniti Fino alla grande città All'epoca Mi ricordo Si diceva Andiamo A Roma Perché Era lontano Perché Noi eravamo Fuori Eravamo tra E all'epoca Da quell'anno in poi Hanno cominciato A costruire I palazzoni A costruire I centri commerciali E ad unire Quindi le vecchie Borgate Con la grande città E fino a quando Si è chiamata La Periferia E poi Mi interessava Sviluppare Le Come dire L'importanza Delle persone Che ci abbiamo vicino Perché era un mondo In cui ancora Se tua madre non c'era La vicina di casa Faceva tutte le dieci Quindi se c'era bisogno Di darti da mangiare Ti dava da mangiare Se c'era bisogno Di darti una maglietta Delicante Ti dava la maglietta Se c'era bisogno Di menate Te me la ho Prego 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 Ci sono dei posti vicino Se volete E avvicinatevi E quindi ecco Mi interessava anche Dire l'importanza Che hanno le persone Vicino a noi Soprattutto in quelle età lì Perché in quelle età lì Se trovi il professore giusto La professoressa giusta Che ti regala un libro giusto Forse la tua testa si apre Se incontri la persona Più sbagliata del mondo Forse la tua vita Cambia e prende Un'altra piega E quindi mi interessava Durante le tre notti Di questo romanzo Descrivere intanto Una storia d'amore Tra questo Andrea Che è il protagonista Di questo romanzo Vede suo padre Vivo per l'ultima volta Nella casa di campagna Esce fuori C'è la macchina di suo nonno Parcheggiato sotto Lui è strarunato Sofferente Bla 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 Entra dentro la macchina Di suo nonno C'è un pacchetto di sigarette Di suo padre Dentro al pacchetto di sigarette C'è una chiave Una chiavetta Che Andrea sa Che cosa serve Quella chiavetta E che luogo Può aprire Quella chiavetta lì Le chiavi della macchina Sono dentro al quadro Come sempre Lui ha 15 anni Gira le chiavi della macchina E scappa E poi Iniziano queste tre notti Di cui parlo Però poi All'interno di queste tre notti Ci sono delle aperture Enormi Anche 30 anni prima E 30 anni dopo In cui si descrive Più o meno Un po' meglio Questo padre Che cosa ha fatto Questo padre Chi era Eccetera 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 Non sono mai scappato Con una macchina Non ho rubato mai Una macchina Non ho fatto quasi niente Di quello che ci ha scritto In queste tre notti Perché è un altro esercizio Per cui forse Ci sono voluti Questi 13 anni Da quella prima idea Era anche quella Di riuscire ad avere Un trattamento letterario Di tutta questa roba qui E quindi Di riuscire a creare Una struttura letteraria Narrativa In cui ovviamente Mi auguro Tutti e tutte Si possano Riconoscere Insomma Per la storia d'amore Per le amiche Per le amicizie E poi E chiudo davvero Poi se avete Devo mando Parlate voi Però questa cosa Ci tengo Molto Volevo Indagare Il tema Della maschilità Il tema Dei maschi È un romanzo Molto maschile Anche se Credo sia Un romanzo Donna Perché secondo me Esistono Dei libri Maschi E libri Femmine Questo è un romanzo Molto maschile Ma è un romanzo Donna Secondo me Poi mi direte Quando lo leggerete Mi interessava Entrare dentro A quello che noi Oggi Sentiamo spesso Siamo figli Del patriarcato Viviamo in un'Italia Maschilista Eccetera Eccetera E volevo Entrare dentro A questo travaso Che c'era In quegli anni Ancora Cioè oggi Perché ne dobbiamo fare Di strada Non è una schietta Ancora E' bene che ce lo diciamo Tra tutti E mi interessava Entrare dentro Questo travaso Tra padre figlio Tra maschilità Tra essere il primo figlio Maschio Del primo figlio Maschio Eccetera Eccetera E mi interessava Indagare Il lato maschile Del mondo In tutti i suoi Aspetti Diciamo Cioè Nella seconda notte Si svolge tutta Nel bar Dello sport Con gli amici Del padre Di Andrea Che ognuno Gli dice una cosa Rispetto a suo padre La terza notte Andrea la passa Con uno zio Omosessuale Il primo Omosessuale Dichiarato Nel 1991 Che lo porta in giro Nei locali Omosessuali Di Roma Che c'erano davvero In quegli anni lì E quindi Gli dà un altro Aspetto Della maschilità Perché essere omosessuale Non vuol dire Non essere Un uomo E vi assicuro Che nella mia vita Ho conosciuto Più omosessuali Con le palle Di tanti maschi Che ho conosciuto Nella mia vita Basta Se no Faccio Una lezione Se avete domande Fatele Una domanda La voglio fare io Giusto per rompere il ghiaccio Allora Ci hai raccontato Le sensazioni Che Ti hanno portato A scrivere Il libro Quello che volevo sapere Era invece Le sensazioni Che hai avuto Nel momento In cui scrivevi Il libro Cioè Mano a mano Che andava avanti La stesura Dello scritto Che cosa provavi Se provavi Conforto O sconforto Magari Nel riaffrontare Comunque Queste sensazioni Che hai passato Nella vita E se questo poi Ti è piaciuto Come esperienza E se pensi Uno scoop Di farne già Uno ulteriore Insomma Grazie per la domanda Un attore Sai È sempre Abituato A lavorare Da solo Perché Quando studi Le sceneggiature Quando studi I copioni Quando fai La memoria Costruisci Il tuo personaggio Studi Da solo Ore 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 Però Comunque Sei sempre Circondato Da ombre Che arrivano Da qualcun altro Che è la scrittura Della sceneggiatura Quel personaggio Che devi fare Un quadro Che vedi Per ispirarti Una musica Che senti Però sono tutte cose Che arrivano Da qualcun altro Scrivere Seriamente Diciamo 4 o 5 ore Al giorno Per 3 4 mesi Mi ha Insegnato Una solitudine Diversa Una solitudine Che non avevo Mai frequentato Così profondamente E quindi Una solitudine Vera Una solitudine Sola Perché poi Quando fai Un film Come attore Se sei bravo Te la cali Anche se Il film Non è riuscitissimo È colpa Del regista È colpa La sceneggiatura È colpa Di qualcun altro Qui è tutta Con colpa mia Quando scrivi Anche Anche Si si poi Questo lo direte Voi Non lo so Però ecco Ho scoperto Questo Mentre scrivelo Una solitudine Atroce A tratti Meravigliosa A tratti Diciamo che Questo romanzo Forse è anche Servito Per donare Tanto Per donare Me stesso Per donare Tante cose Che Che ho ricevuto Ma come Ognuno di noi C'è un problema Col padre Con la madre Sto parlando Sto parlando Di un archetipo Che va avanti Da sempre Che andrà avanti Per sempre Sia come figli Che come Genitori Ed è stato bello Per donare Ci sono delle pagine In cui mi sono commosso Mentre le scrivevo Perché Scrivere è anche Una cosa che Cioè Scrivi E quando finisci Di scrivere Dici ma Da dove è uscita Questa cosa Ed è comunque Uscita da te Da qualcosa Di profondissimo Inconscio Dimenticato Sepolto Chissà dove Dentro di noi Dare Un ordine Dare Una struttura E far sì che Questa cosa Mi auguro Continuo a dire Possa diventare Anche qualcosa Che vi fa Vi faccia Leggere qualcosa Di voi E vi faccia Riflettere Emozionare Perdonare Innamorare Non lo so È stata La cosa difficile Cioè Mantenere le briglie Di tutto quanto Di tutte le dinamiche Di tutti I personaggi E farla diventare Una storia Di tutti Chiaramente Cioè Sì L'idea di scriverne Un altro Sì Perché forse Da grande Io volevo Fare lo scrittore Nel senso Io mi sono iscritto In università Quando c'erano 18 anni Forse volevo Scrivere Poi per sbaglio Sono entrato Dentro una scuola Di teatro Diciamo Diciamo pure Per fortuna Dai Per fortuna E' un'altra scuola E' un'altra scuola E' un'altra scuola Siccome andavo Dai preti A quattro anni E hanno girato San Paolo E ho girato Un film Dove ne facevo Gesù Non Gesù Nanno E c'era mia nonna A proposito Ti leggo tutte le cose E hai detto Purtroppo E poi E in certo punto Mi portavo Nel terreno Mia nonna E eravamo Di 44 A un urlo Quindi E io ho cominciato Col cinema Poi sono La battito Poi ho un po' Ma anche da Lo sanno tutti E mi dice Qua è qui E già Mi hanno fatto E mi è finito A scrivere Perché nessuno Mi ascoltava Cos'è successo Che questa È una specie Di Rennomanzano Che sto facendo Che succede Mi succedeva Che Le cose Intellettuali Appena c'è un altro In bracciatore Senza mai Noi Sparano contro Ma Perché Sto E Si Erano Cos'è La mia L'isabetta Però Volevo dire Che Sono Volevo Tornare In 10 Quello Dice Ma Dico Fra 10 Anche Dice Una frase Che Non Ripeto Ma Forse Ti metti A viaggere Ma Succede A me Volevo dire E si dice Quando è Davolo Io mi scoppia A me Ci sono Le registrazioni Di una storia La mia Sua amica E Succede Oltre La polizia In Volevo dire Il posto 20 giorni Fa Parlava Di Una sala Bellissima Qui In Cedra Avrei Che Sono Uscito Prende Soccorso Che Ho letto C'era La registrazione La lettra Di una Maria Ottese Quando Avevo L'unica E Non Soccorso Però Ti voglio Volevo dire Controllate Il morto Perché Di autore Si Dice Se tu Scrivi Lo Sacrissimo Come Quello Il posto Il posto Il posto Io lo Solo E io Ti fai Solo Come lo Giamare Arminio Arminio Prendi in giro Perché Le poesie Arminio Sono Vestratte Da Le pensieri Di Osho Da Che Sono Delle Paranze E Però Le persone Hanno Le cose Semplici Quando Arrivò Nel 92 Che Lunar L'ha Detto Fatte Che Saltarono Un po' Gli Antenne Prima C'erano Quelli Che Facevano Delle Cosi Intelligent In modo Che Il popolo Si Distruisse Adesso C'erano Tanti Cretini In In Quindi Secondo me L'ascolto Chi Compra Storito Ma Anche Chi No E Siccome C'è Una Quella Di Non Posso Parlare Di Un'altra Se Invece Se Ne Parla La Ma Quando Uscirete Avete Un In Maggio Comunque Si An Finale Abbiamo Bastante Comunque Grazie No Ne Approfitto Di Questo Che ha detto Peppe Perché Prima Tanto Tempo Milena Appunto Diceva Ogni volta Che partivo Per una Tournée Che stavo Tre mesi In giro Quattro Mesi In giro Diceva Beh Magari La mattina Scrivi Poi la sera Va in scena Però Quando fai Questa Tournée Lo scrivi Questo Cazzo Di Libro Era diventata Una roba Che Non se ne Poteva Più Però Una Delle cose Anche Oltre a Lavorare Non Aver Tempo Ringraziando Il Certo È Stato Anche Il Fatto Che Io Mi sono Sempre Chiesto Ma C'è Proprio Bisogno Di Un Altro Romanzo Nel Mondo Perché Siccome Come Scrittore Non lo so Come sono Ancora Ma Sono Sicuramente Un Grande Lettore E Quindi I miei Termini Di Paragone Sono Stati Sempre Molto Altri Facendo L'attore Lavorando In Teatro Con La Grandissima Dramaturgia Mondiale E E Quindi Per Tanto Tempo Mi Sono Detto Ma Evidentemente Il Trattamento Che Ho Cercato Di Farne Letterario Trave La Finzione Con Tanti Personaggi Inventati Di Sana Pianta Che Leggerete Spero Che Vene Innamoriate Io Ho Sempre Cercato Di Mettere Sempre In Discussione Ogni Idea Che Ho Anche Quando Faccio Per I Personaggi Cerco Sempre Di Trovare Altre Diecimila Cose Che Stanno Dietro Non Ne Accontento Mai Della Prima Idea Poi Se Quella Cosa Che Ho Pensato Continua A Romper Mi Le Scatole Nonostante I Dubbi Miei E Resiste E Rimane Lì Vuol Dire Che Forse Vuole Proprio Uscire Fuori E Vuole Proprio Essere Detta Insomma Quindi E' Un Po' Una Giustificazione Questa Che Sto Tanto Anche Insomma Questo Libro È Il Frutto Di Tante Cose Anche Il Frutto Dell'amore Per La Grande Letteratura Sicuramente Sono Uno Dei Diecimila Attori Che Scrivono L'ennesimo Libro Parto Da Questo Giudicherete Voi Se Ne Vale La Vira Un No Grazie Il Subrito No No Il Sì 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 288 Pagine Tutte Scritte Da Me Sì 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 Avete Domande O Passiamo Con Fin Sì 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 Ovviamente È una Generalizzazione Banale Quindi Mi perdonerete Però Credo Che Uno dei Sentimenti Maggiori Che Riempie Questo Libro È La Tenerezza È La Pura La Presenza Prendersi Sicura Di Poi Vi Leggerete Nella Seconda Notte Forse Lo capirei Meglio Leggendoli Quanto Lo Posso Spiegare Io C'è Un Personaggio Che Amo Che Si Chiama Nerone Che Fa Un Invettiva Proprio Contro Gli Uomini E Spiega Perché Fondamentalmente Dice L'Uomo Va La Donna Sta Questo Libro Penso Che Stira E Penso Che Sia Come Dire Permeato Di Tantissime Qualità Quale La Morbidezza La Capacità Di Piegarsi Ma Non Di Spezzarsi In Due La Capacità Di Sorridere Nonostante Tutto La Capacità Di Fare Auto Ironia E Ironia Insieme Agli Altri Nonostante Ci Sdrovi Nella Peggiore Condizione Possibile Penso Queste Siano Tutte Caratteristiche Che Partendo Più Alle Donne Che Non Agli Uomini Perché Gli Uomini Si Spezzano Non Si Piegano E Per Questi Non Rivi Il Pezzo Che Siamo Di Donne Grazie Molte Donne Hanno Tentato Di Fare Il Cinema Dalla Parte Di Donne Poi C'è Patrice Leconte Frastronato Focco Beggeman Che Fanno Dei Capolavori E Non Sono Gay Non So Se Avendo L'idea C'è La Moglie Di Marco Pasqua Che Mi Dice Ma Come Fai Scrivere Come Donna Sogna Sola Malla Davvero Non Perché In fondo Puglia L'Ave Puglia Ugale Per Puglia Non Applausi Non B Siamo Ancora Domani L'aspetto Del Maschinismo Che Sono I Due Aspetti che lei ha detto di aver concluduto a concludere il romanzo, posso chiedere che quanto il coinvolgimento di un film che ha avuto nella stitura del romanzo è influenzato la scelta cinematografica del giocatore di tutti i ruoli, oppure viceversa, se è stato invece il ruolo cinematografico che ha in qualche modo fatto? No, sono state cose coincidenti, sono state delle coincidenze, nel senso che sia mia che c'è ancora domani, tra l'altro c'è la protagonista, sono stati girati prima della scrittura di questo romanzo, così come è stato girato prima anche il film di Paolo Virzi, un altro ferragosto in cui rappresentavo la peggiore specie di maschio possibile, o perlomeno ce l'ho messa tutta per farlo peggio possibile, però credo nella sincronicità nella vita, credo che esistano delle energie che vanno in giro, su cui ognuno di noi riflette, consciamente o inconsciamente, dei temi che ritornano dentro di noi perché ci servono a mettere a posto delle cose, per delle cose che ci succedono in quel periodo, e attraverso la messa in modo di energie inconsce fondamentalmente, poi intorno a noi succedono cose che sono riferite a quello a cui stiamo pensando. Il caso non esiste? Il caso non esiste, no, le coincidenze, chiamano coincidenze solo le persone che non approfondiscono, diceva qualcuno. Quindi penso che, come dire, a parte che ho anche un'età anagrafica in cui è ora che faccio i patri, insomma, il giovane attore una volta, però ecco, tutti questi temi che sono in questo romanzo poi li ho ritrovati, mi sono ricapitati, ma veramente casualmente, no, forse c'è anche il fatto che abbiamo due figli di 11 e di 12 anni, quindi insomma l'essere padre... poi lo penso davvero qui che è stata la cosa qui, cioè io penso che noi maschietti dobbiamo proprio riparlarci tra di noi, perché oggi si parla tanto della sorellanza, grazie al cielo non se ne parla abbastanza mai, però non si parla mai di fratellanza, perché i nomi aschietti non ci hanno insegnato mai a esprimere le nostre difficoltà. Io non ho mai sentito in uno spogliatoio di calcetto due uomini confidarsi se direi ieri sera non mi è sarsato, mai, 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 non ho mai sentito un uomo confidare una propria debolezza, questo lo voglio dire, non ho mai visto un uomo in grado di ridere in un momento di difficoltà, non ho mai visto un uomo fare tante cose, chiaramente mi ci metto anch'io, però ecco, quello che volevo fare o che mi interessa molto da uomo del 2024, figlio del patriarcato e del maschilismo, mi interessa molto ragionare su che cos'è un uomo oggi, ed è fondamentale prendere quello che di buono c'è ancora nell'essere uomo, perché non è che siamo proprio tutti da buttar via, esistono uomini che amano le donne, però a parte il rapporto uomo-donna, secondo me c'è da capire noi che cosa siamo oggi e che cosa di buono possiamo insegnare ai nostri figli e che cosa di pessimo e atroce possiamo abbandonare ai nostri nonni, ai nostri padri che ringraziando Dio a una certa ci salutano insomma, ecco, grazie. ha detto che alla fine di questo libro è stato come chiudere un cerchio e mentre lo raccontava io ne immaginavo quasi le scene in alcuni momenti, l'ha mai pensato questo libro in una chiave cinematografica, teatrale? E se sì, anche dall'altra parte, quindi come regista l'ha pensato, l'ha immaginato? Allora, ho iniziato a scrivere ed ero solo preoccupato dell'aspetto letterario chiaramente, perché poi appunto era la prima volta che mi ci mettevo con... con i temi? Sì, nel miglior modo possibile chiaramente ero terrorizzato dal non essere in grado, essendo un esordio con un romanzo in terza persona, eccetera, eccetera. Mentre scrivevo mi sono reso conto, rileggendo quello che scrivevo, che in realtà stavo scrivendo, mentre descrivevo gli ambienti, mentre descrivevo i personaggi, stavo scrivendo come se ci fosse un punto della macchina da presa da cui vedere quella cosa. E però me ne sono reso conto lì, non l'ho fatto consapevolmente, non so come dire. E poi credo che mi ha... No, il libro lo stanno leggendo dei produttori, quindi... Penso che sarebbe molto figo, questo lo dico dopo che l'ho finito chiaramente, perché nel romanzo vedrete che c'è tanta musica, nel romanzo ci sono le luci stroboscopiche delle discoteche degli anni 90, c'è un bar con quella amicizia, con quell'umanità, quel modo di parlare degli anni 90, perché oggi bisogna stare attenti a dire qualsiasi cosa, non puoi dire niente, eccetera, eccetera, politicamente corretto. Negli anni 90, no. E quindi c'è un linguaggio, c'è una verità mi verrebbe da dire, nei rapporti umani, nella terza notte appunto, che è la notte in cui con questo zio omosessuale e un altro omosessuale amicissimo, amicissimi tra loro due, vanno in giro, questi due non fanno altro che offendersi, per 50 pagine si prendono in giro in maniera esilarante. Volevo anche... E penso, ritornando alla domanda, se no mi riperdo, penso che potrebbe essere bellissimo oggi fare un film con quelle luci, quell'atmosfera, quelle musiche, perché nel 91, che ne so, i Queen, i Rem, Michael Jackson, Madonna, qualsiasi, Elton John, Mene, Pearl, Prince, dite un gruppo musicale, eccetera, e ogni musica di quegli anni, quando la senti ti veniva voglia di ballare, di stare insieme, di uscire, ti metteva la voglia di vivere, perché era ancora un mondo tutto da costruire. Dal 92 in poi abbiamo iniziato a dire... però... e siamo arrivati a oggi. Aspetta che c'era, vedete. Dovevo chiedere se... ...dipo, dire fuori chiaramente di una serie di riflessioni, non? Lui, l'essere uomo, sono affatto con un padre, forse anche con un essere padre. C'è qualcosa che è cambiato nel tuo essere padre oggi? Dopo la scrittura di questo romanzo, no, no. No, 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 no. Alcune cose con i figli, sai, mentre fai i figli, cioè, quando fai i figli, a me molte cose me le hanno insegnate loro, e poi ognuno è il padre che è, insomma, nel bene e nel male, con tutte le domande del mondo, perché ovviamente fare il padre e fare la madre è il mestiere più difficile del mondo, in cui come fai sbagli, eccetera, eccetera. la motivazione è stata. No, è vero, sto facendo... Sto dicendo così? Io sono più felice di loro, perché è una storia vera, che comincia da lontano, quando qualche lagrima si buttano, si buttano le lagrime, vero? Non si buttano mai le lagrime, si hanno cominciato a danzare, io quando vedo il padre, voglio bene a lei, ma io ti voglio bene solo perché tu vuoi bene a lei. Dico, ma io dico, anche se raffoggia, tornavo di corsa per me, perché sono persone rare oggi. Normalmente negli anni 80, negli anni 70, per carità, quando i nonni raccontavano la guerra e ti favamo Russia, ora non sappiamo mai che te fare, perché sono tutti venduti i giornalisti, ma anche diversi attori, qui ne sono andati bravi, a Noto Foix, a Elisabetta De Paolo, me ne sto spostando, sono... Cioè io devo fare l'attore, però non mi prendi? Diciamo, la faccia e la voce... La storia di Don Beppe, sto scrivendo. La storia di Don Beppe. Don Beppe, sarebbe io e Mitro Santa Paola, perché io sapevo... La storia di Don Beppe, ha detto Santa Paola, lo sapevano tutti, e uno della DIA, amico, non posso fare il nome, perché invenzione, mi ha detto, lo sapevano tutti, non lo ha arrestato, tutto qua. E' vero. Eh, sì, ecco, non me ne ho ricercato, nel pastiglio, ricercato lui. Tutti sapevano dove siamo, io, non dice che nessuno, e lui li sanno... Cioè abbiamo, forse ne... abbiamo identificato con tutti, io, quella donna, non mi ricordo che una donna, le conosco, quelle due donne... Quelle due donne? Perlomeno, non vi ho corteggiato mai, non vi ho corteggiato mai. Non vi ho corteggiato mai? Ma è vero, cioè... Sono bellissimi, sono bellissimi, sono pronti, sono single... Single, 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 singer e single. No, posso chiedere i luoghi, come escono fuori dal libro, se c'è la periferia. I luoghi? Beh sì, c'è la campagna. Voi lo sapete pure la periferia. No, 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 il centro ci si arriva, ma non si descrive... No, il centro si descrive in un capitolo soltanto all'inizio della seconda notte, quando Andrea va a Roma e va a via del corso, va a mangiare McDonald's, che era il primo McDonald's aperto in Cielo, a Piazza della Spagna, che ho scoperto non essere stato il primo aperto in Italia, perché il primo l'hanno aperto a Bolsaro. Va a capire perché, non lo so. Ed era interessante, secondo me, scrivere questa cosa proprio per far vedere lo sguardo di un ragazzetto cresciuto nella campagna di Via Salaria e cresciuto appunto in una poporgata che vedeva il centro come quelli vestiti del centro si vedevano, che non si permette di entrare nemmeno nel negozio di energy che c'era all'epoca, perché dice io non centro niente con questa roba qui. Cioè mi interessava descrivere appunto la differenza di sensazione, di percezione di un ragazzetto cresciuto così, mentre vedeva appunto i primi, quelli che avevano i cellularoni enormi, le macchine blu che gli passano davanti, le pellicce, mentre quella nonna lì, quel nonno lì, quel padre lì, il suo padre si sta spegnendo da una parte in quella campagna che era fatta di sugo, che era fatta di gallina, che era fatta di uova e lui vedeva il mondo, e vede il mondo in quel capitolo lì come un mondo che, con i turisti che venivano con le macchine fotografiche ultima generazione, le videocamere compatte del 1991, tutta roba che lui non aveva mai visto in vita sua fondamentalmente. Poi c'è tanta la campagna, che oggi dici c'ho la casa in campagna, uno se ne pensa no, no, una casa dei blocchetti puntata lì in mezzo alle vacche, eccetera eccetera, leggerete anche questo, e poi c'è la borgata, che è il cuore pulsante. Però volevo anche che non fosse la solita, perché siccome ho fatto tanti dei personaggi di periferia, la retorica della periferia romana mi ha rotto i coglioni in un modo devastante, volevo descrivere un posto di frontiera, volevo descrivere un posto dell'anima, volevo che quella borgata lì, come tutte le borgate, di tutte le grandi città, di tutti i tempi, di tutto il mondo, fosse un posto in cui le persone si parlassero, fosse un posto in cui c'era uno stato sociale ancora pulsante, e ci fossero dei personaggi memorabili. Perché poi ho scritto tutta questa roba qui, pensando anche ad una favola. non volevo fare un romanzo realistico, mi fa schifo la realtà, se no non fare l'attore, non mi chiederei in un teatro a cercare di ricrearla. E quindi volevo fare sicuramente un romanzo di formazione classico, un romanzo in cui c'è un protagonista che attraversa le avversità della vita e ne esce migliore. Però volevo che tutto questo arrivasse anche come una fiabba, con i personaggi delle fiabbe, come Pinocchio. E quindi c'è bisogno di Mangiafuoco, c'è bisogno del Gatto e della Volpe, c'è bisogno di tutti i personaggi classici che accompagnano i protagonisti fino a sprofondare nella pancia della balena nella terza notte e poi si rinasce. Questo è stato un po' il tipo di trattamento che ho voluto fare. Prego. Ti volevo dire quanto ha inciso, se hai inciso, i due libri di Pasolini sui ragazzi di Pasolini? Grazie di questa domanda perché il libro si apre con una citazione di Pasolini e pensa, quella citazione lì io ce l'ho chiara da 13 anni fa, è l'unica cosa che è rimasta ferma perché volevo proprio, mi piacerebbe che questo romanzo fosse letto soprattutto dai più giovani e dalle più giovani perché oggi noi ai nostri figli chiediamo tantissimo, i nostri figli si muovono in un mondo molto più complicato rispetto a quello in cui siamo cresciuti noi con meno punti di riferimento rispetto a quelli che avevamo noi gli chiediamo di essere maturi, gli chiediamo di essere stupendi, gli chiediamo di raggiungere gli obiettivi, gli chiediamo di essere maturi, gli chiediamo ogni tanto di occuparsi anche loro di noi, è proprio l'inversione del mondo secondo me e non gli diciamo mai che sono bravi e gli rompiamo solo i coglioni sempre e hanno un mondo davanti da affrontare che è complicatissimo, senza punti di riferimento eccetera, io invece penso che i nostri giovani siano straordinarie e straordinarie e dovremmo stargli solo un po' più a fianco e toglierci ogni tanto dalle scatole e lasciargli una libertà anche maggiore per andare con le loro gambe. e quindi quell'incipit, quella citazione da Pasolini è che non vogliamo essere più così sicuri, non vogliamo essere più così adulti subito, se uno ha 14 anni, ha 14 anni e deve vivere la vita da 14enne, deve fare gli errori, deve sbagliare, deve sperimentare la vita perché se no gli chiediamo già di averne 25, 30, ma ce n'ha 14 ed è giusto che faccia il 14enne, quindi quella citazione lì e questo protagonista che ha 15 anni, quindi nel piano della adolescenza, ho cercato di metterlo nelle peggiori condizioni possibili per fargli fare al meglio quello che è giusto secondo me che ha 14 anni fa e forse nel 1991 era molto più semplice di oggi. Sì, ci si sbucciava le croste, ci si sbucciava le ginocchia, ci si passava la saliva e basta. Oggi a 14 anni sono attività vera, viva? Sì, oggi a 14 anni noi li dobbiamo mandare per forza all'Accademia dei Totti perché se no non fa il carciatore, perché quando hanno 8 anni fanno danza, danza classica, danza moderna, danza jazz, nuoto, nuoto sincronizzato, pianoforte, tromba e quando cazzo si annoiano questi ragazzini? Eh, ma quello è naturale. Eh, ma sono passati... Il mondo va avanti, signora. Il mondo va avanti, signora. Però dobbiamo accettare il fatto che quelle cose intanto le abbiamo fatte anche noi, come giustamente dice lei. Noi le facevamo a vent'anni, ma il mondo va avanti. Noi oggi, loro oggi, con TikTok, a 8 anni, 9 anni, vedono la guerra di cazza, vedono la violenza stessa che vediamo noi, e ce ne abbiamo 50. Noi al massimo sentivamo l'eco dei telegiornali che vedeva nostro nonno, nostro padre, ma non stavamo immersi in una realtà così cruda, nuda, violenta, complessa, articolata. Per forza crescono più velocemente e conoscono meglio le differenze, perché loro ridono di alcune cose e poi sanno quando chiudere quella cosa e quando si parla seriamente. E noi invece non ce ne rendiamo conto, perché non siamo in grado di aprire e chiudere questi falcoli. Così. Sono velocissimi, ringraziando Dio, perché il mondo è più veloce e quindi prima si facevano delle cose a 18-20 anni e oggi si fanno a 14. Ma è così, ma è come i nostri padri, io sono sicuro che mio padre non capiva perché io stavo a guardare, non era Rai, e diceva guarda che stronzo questo che sta a 14 ore a vedere queste scene, queste vignottelle col culo dei fori, bla bla bla. È la stessa cosa, è uguale, solo che cambiano le cose che guardano i mezzi di comunicazione, ma i processi, le dinamiche sono le stesse sempre, secondo me. Magari, se eravamo in camera a guardarci, la vedi quasi è stata la mia Africa. Lui eravamo, esatto, bravissima, però è così. E' giusto però perché fai un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività Signora mia, se penso a quello che ho fatto io quando avevo 14 anni è un miracolo che sono vivo. Perché noi giravamo senza casco, due sursi, tre sursi, surciaetto che avevano triangolino così con la marmitta modificata che faceva 80, 90, due, senza... Il miracolo che siamo vivi noi. Loro sono molto più coscienti, prudenti, maturi, responsabili, coscienziosi. Se si embriagano sono 14 anni ma che devono fare? Devono tornare a casa? Se ti posso servire sapere queste di periferia non sono poveri perie del centro dove ci arrivano poverete anche molte persone che non hanno da mangiare mentre siete ben fresco che vanno a la firma. Quando è venuta Barbara Salvelli ha indicato due ore perché prima avete voluto il libro e dopo due ore ve lo ricordate dice solo qua succede oggi mi ha detto me non vengo una copia in giro perché il personaggio è una cosa. Ora, questo non è un personaggio non è un personaggio fatte le visioni grazie per questo no è vero lo ringrazio da te lo ringrazio da te no perché io quando dico ho dato un'occhiata sapete i talenti che ho scoperto qua chi non lo sa guarda il catalogo l'ho chiuso ma guarda il catalogo vede tutte persone che avevano 18 anni e stanno subito vedi miglioro critico l'arte miglioro no sgarbi no no anche se lo conosciete era una persona del bene scusaci te tolgo la parola ma perché queste non ce la finiranno e facciamo un'altra non sono quelli che scodinziano perché sei bello è stato un bel gioco più che altro ci mettiamo di là forse a filmare le copie sennò va troppo caldo qui poi continuiamo con le domande e grazie ancora a tutti grazie grazie a tutti grazie mille una raccomandazione state un attimo un attimo fermo in tempo che si sposta qualche banco non è meglio che sei qua per un pochino poi magari vi avvicinate buon lavoro grazie a tutti non lo facciamo qua ma c'è 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 grazie ma c'è ma c'è il 9 novembre il 30 novembre il primo vicende ok il 29 novembre è San Andrea il 31 e io ho scritto con questo Andrea ambientato il 39 nonược ma c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti.